Incontriamo oggi il direttore del Policlinico Umberto I e il dottor Domenico Alessio. Buongiorno direttore. In primis vorremmo parlare di lei dopo questo importante finanziamento ottenuto dopo la presentazione della ristrutturazione del Policlinico. Quindi siamo tutti in attesa dell'avvio ai lavori, però ci sono stati fondi molto importanti. Quindi servono anche perché cambi l'atto aziendale e se cambia come? No, sono due cose completamente distinte e separate. I finanziamenti servono per ristrutturare l'ospedale e l'atto aziendale serve per la gestione dell'ospedale. Sono cose completamente diverse. È ovvio che gestire un ospedale ristrutturato che risponde alle esigenze di una sanità moderna è un'altra cosa che gestire un ospedale come quello che abbiamo in questo momento, che da 120 anni non ha mai avuto interventi manutentivi importanti. In effetti ci siamo limitati, anzi si sono limitati i miei predecessori ad assicurare una manutenzione ordinaria senza incidere in maniera consistente sulla struttura che ha bisogno di essere adeguata e di rispondere non solo alle esigenze di una sanità moderna ma anche alle prescrizioni di cui al DLGS 81 del 2008 sulla sicurezza e sull'efficienza. Per quanto riguarda l'atto aziendale, l'atto aziendale era stato presentato, poi il subcommissario Bissoni ha ripreso tutti gli atti aziendali delle strutture regionali per visionarli. Adesso dalla Regione ci dicono sia tutto pronto per l'approvazione finale. Cosa prevede l'atto aziendale per la sua struttura, soprattutto su cosa si focalizza? Noi non siamo come tutte le altre aziende che decidono autonomamente cosa fare. Noi siamo un'azienda che abbiamo l'obbligo di formare i medici e quindi siamo l'ospedale di riferimento dell'Università Sapienza e della Facoltà di Medicina. Bene, dare che l'atto aziendale incide anche su questi rapporti, la prima cosa che si deve fare è predisporre una bozza di atto aziendale che viene sottoposta al Rettore dell'Università Sapienza, dopodiché se lui la condivide bene, allora dà il cosiddetto assenso, l'intensa, come la vogliamo chiamare, il nulla osta. Se non la condivide, allora ci sono delle procedure che devono essere attivate, sono quelle dell'istituzione di un tavolo a livello regionale, dove interviene anche la regione e cerca di rimere eventuale incomprensione, eventuale situazione che magari sono state quelle che non hanno consentito al Rettore di dare l'assenso. Però nel nostro caso questa roba non succede, perché l'assenso già è stato dato, per quanto riguarda il problema del contenimento delle strutture complesse, perché noi passiamo da 341 centri di costo che io ho trovato appena arrivati, appena arrivato, passiamo a qualcosa come 141 centri successivamente che si riferivano a strutture complesse, e da queste siamo passati a 94 strutture complesse che riguardano l'attività assistenziale e 9 strutture amministrative, quindi in totale da 341, poi 141, adesso siamo in tutto a 103 strutture complesse. e siamo impegnati nel riportare il numero delle strutture, che potrebbe sembrare anche esagerato, ma in un grande ospedale, che è anche riferimento, come dicevo prima, della facoltà di medicina, non sono molte, però noi ci dobbiamo comunque allineare, allineare a quelle che sono le linee guida regionale e ministeriale, cioè a dire quei parametri che consentono di determinare senza nessun dubbio il numero delle strutture complesse, che sono il 17.5 dei posti letto e le strutture semplici che sono il 3.1, che viene calcolato sulle strutture complesse, quindi in effetti c'è tutta una procedura che noi abbiamo messo in atto dicendo che per il momento e per garantire la formazione dei medici non possiamo andare sotto questo numero di strutture. Prossimamente, nei prossimi tre anni, attraverso il piano strategico triennale, cercheremo di riportare tutto nei parametri di queste linee guida. Direttore, ci sono stati tagli di posti letto in questa struttura e se ci sono stati dove e soprattutto perché? Beh, guardi, di posti letto abbiamo subito la stessa sorte in tutti gli altri ospedali romani, non è che il Policlinico è stato penalizzato più di altri, anzi, proprio in relazione al fatto che noi dovremmo assicurare un posto letto ogni tre iscrizioni di studenti al primo anno di medicina, beh, insomma, la regione è stata abbastanza comprensiva con il Policlinico, quindi tutte quelle situazioni che si verificano anche al pronto soccorso, quando si dice che l'affollamento al pronto soccorso dipende dal taglio dei posti letto, io devo dire no, bisogna organizzare meglio l'ospedale e fare in modo che ci sia un turnovere più veloce, per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso e cercare di evitare che ci siano queste lunghe soste, magari attivando iniziative completamente diversi, cioè riorganizzando, facendo le cose fatte bene e meglio. Infatti di fronte alla situazione del genere il Presidente Zingaretti, proprio per evitare, per evitare queste lunghe soste al pronto soccorso, che poi portano sempre all'agnanza, lamentele, ha pensato bene di far mettere a disposizione circa 400 posti da case di cure private convenzionate. Bene, indipendentemente da questo, io sono andato oltre, d'accordo con la regione, ovviamente, ho fatto una convenzione, una convenzione con l'ospedale militare del Cerio per cercare di smaltire queste attese all'interno del pronto soccorso e funziona, perché la gente quanto sa che viene trasferito in un ospedale pubblico serio come può essere il Policlinico Militare, insomma, abbiamo dato una grossa mano e io ringrazio il Direttore del Cerio e ringrazio tutte le autorità militare che hanno consentito alla firma di questa convenzione. È un fatto incratante, è un fatto nuovo, come d'altronto sono tutti i provvedimenti che prendo io all'interno dell'ospedale, molte volte non in linea con le prassi consolidate, ma che comunque riscontrano poi l'assenso e il consenso da parte regionale. Per quanto riguarda il pronto soccorso, c'è stato pochi giorni fa un Consiglio regionale che ha impegnato la Giunta, quindi la Giunta di Zingaretti, a rispettare 30 punti. Si è riscontrato un uso improprio del pronto soccorso che sicuramente avverrà anche qui al Policlinico Umberto I, però dall'altra parte si va a dilenare direttore un uso sociale del pronto soccorso. Le prestazioni costano troppo e spesso le persone si rivolgono appunto a queste strutture perché non hanno nulla di alternativo. Come vede lei il nascere di queste nuove strutture sul territorio, quali le case della salute, gli studi medici associati aperte in fine settimana, i poliambulatori, la guardia medica aperta continuamente? In maniera favorevolissima, non favorevole, favorevolissima, tutto sta però a farle funzionare, questo è il punto. L'impegno regionale è tanto, le case della salute è un'iniziativa importante, però noi dobbiamo cercare di cambiare la mentalità delle persone, cioè a dire i grandi pronto soccorsi, i pronto soccorsi che riguardano ospedali che sono dei a di sé conto di vero non dovrebbero perdere tempo a prestazioni che possono essere tranquillamente date sul territorio. Quindi la funzione delle case della salute sono, diciamo così, iniziative che servono per cercare di contenere gli accessi impropri al pronto soccorso. E però se la gente si presenta, non è che noi possiamo dire andate alla case della salute, noi glielo possiamo dire, noi dobbiamo, quando uno si presenta qua, prima fare un triage, poi se è il caso di dimetterli, li dimettiamo, se no dobbiamo cercare il sistema di ricoverarli. Quindi quelli che devono essere ricoverati ovviamente non è gente che può andare alla casa della salute, è gente che ha bisogno di cure necessarie, ospedaliere, però tutti gli altri che noi dimettiamo, quindi che sono codici minori, codici bianchi, verdi, eccetera, potrebbero tranquillamente trovare una risposta sul territorio. E quindi noi dobbiamo gestirli fino a quando tutto non andrà al regime, dobbiamo gestire anche queste situazioni. E abbiamo fatto, diciamo così, un reparto per i codici minori che hanno un percorso separato da quella che è l'urgenza e l'emergenza. E allora io vorrei dire questo, che l'accesso al pronto soccorso, anche se in parte questi numerosi accessi al pronto soccorso e queste soste, gli accessi non dipendono dall'ospedale, gli accessi dipendono dal numero di pazienti che vengono trasportati in ambulanza e da quelli che con iniziativa autonoma si presentano al pronto soccorso. Quindi noi sugli accessi non possiamo fare assolutamente nulla. Anzi, dobbiamo registrare con grossa soddisfazione il fatto che la gente viene al policlinico, la gente sceglie di venire al policlinico, cioè sta a significare che questa scelta dipende da questa grande attrattiva che l'ospedale esercita nei confronti dell'utenza stessa. Però resta fermo un fatto, che il territorio e quindi a partire dai medici, di medicina generale, devono fare da sbarramento al pronto soccorso. Il pronto soccorso del policlinico e degli altri ospedali, idea di secondo livello, devono essere impegnate nella cura di patologie gravi. Ecco perché poi si verificano tutte quelle storie, ho aspettato 12 ore, ho aspettato 15 ore, sì perché quando tu sei impegnato nella cura di patologie gravi vuol dire che tu hai registrato un numero consistente di codici rossi, sui quali devi intervenire perché lì c'è di mezzo la vita della persona. Quindi quelle che arrivano pur di aspettare, non possiamo fare assolutamente nulla, devono aspettare perché i medici sono impegnati nel risolvere problematiche più grandi e allora pur di non farli aspettare ci siamo inventati questo percorso alternativo che è appunto dei codici minori. Poi l'altro aspetto importante perché qualcuno dice il pronto soccorso non funziona perché non funziona l'ospedale, l'ospedale funziona, noi dovremmo accelerare il turnovere dei ricoveri, ma noi lo stiamo facendo, noi inventati perché non è che noi ci inventiamo niente, abbiamo preso delle iniziative importanti attraverso il reparto gestione infermieristica che risolvono la fase post-acuzie del ricoverato nella corsia. Quindi tutte queste iniziative che stiamo facendo stiamo facendo proprio per cercare di far funzionare meglio il pronto soccorso e dare una risposta immediata e concreta alle esigenze dei cittadini. Però ecco non ci dimentichiamo che se noi andiamo sul sito regionale a vedere qual è la situazione dei pronto soccorso in questo momento, lei vedrà che il numero degli accessi al Policlinico è il doppio rispetto a quello di altri importanti ospedale romani. Oltre al pronto soccorso, oltre alla situazione che ci ha appena illustrato, il Policlinico è stato comunque in prima linea nelle innovazioni, soprattutto nell'ultimo periodo per quanto riguarda la sanità e il reparto d'agenza infermieristica di cui ha parlato, ma non soltanto, i ricoveri dal lunedì al venerdì in modo da liberare poi velocemente nel fine settimana l'ospedale è già in due reparti e abbiamo questo tipo di struttura, ma poi c'è anche la telemedicina, quindi la rete Ictus e quant'altro. Tutto questo va anche oltre a curare, oltre a razionalizzare, curare meglio, va anche a portare dei risparmi importanti, direttore? Beh, più che altro noi siamo stati molto attenti al problema dei risparmi, però attenzione, non facciamo passare un massaggio sbagliato, i risparmi non sono sulle prestazioni, i risparmi sono sugli sprechi e sui costi, lì si deve incidere, cioè avere maggiori risorse che vengono utilizzate in maniera impropri per mettere a disposizione dell'attività assistenziale, questo è il punto, noi l'attività assistenziale garantiamo tutte, tutte, non è che dobbiamo risparmiare e quindi, no, noi risparmiamo sugli sprechi, sugli abuse, sui privilegi che sono state tante negli anni. E beh, io adesso vi devo dare una notizia, che non viene, diciamo così, va, va, a merito di tutti, i miei collaboratori, va bene, noi in due anni abbiamo risparmiato qualcosa come 40 milioni di euro, ma che non sono state sottratte, voglio sottolineare ancora una volta all'attività assistenziale. Erano sprechi che avvenivano all'interno di questa struttura. È ovvio, rendere più agevole, più snella, utilizzare, diciamo così, il personale in maniera propria e non impropria, beh, ha fatto nascere quelle esigenze organizzative interne che sono la Wexargery, che è quella alla quale lei si riferiva, e queste le parti a gestione infermieristica, che abbiamo intenzione di aprire qualche altro proprio per far respirare, respirare, va bene, le corsie dell'ospedale, va bene, e dare maggiore possibilità al pronto soccorso di poter ricoverare in maniera più agevola. Purtroppo, direttore, le belle notizie non vengono molto pubblicizzate dalla stampa, che spesso mette in prima linea alcuni lati negativi, a volte neppure dando informazioni corrette, il caso questo forse è dell'obitorio, che ovviamente non si riferisce al politico Umberto I, ma fa parte dell'università, perché si tratta della medicina legale, però che in questi giorni è stato chiuso, addirittura sulla stampa rimbalzavano notizie circa cadaveri sbattuti qua e là per terra, ecco vogliamo fare un chiarimento su questo? Ma assolutamente, ma queste fantasie giornalistiche, va bene, non hanno riscontro nella realtà, ma chi le dice queste cose? Ma siamo impazziti? No, qui la conservazione delle salme avviene nella maniera, diciamo così, più regolare possibile, non ci possono essere, diciamo così, situazioni diverse da quelle che è la realtà, non è possibile. Quelle salme che sono a disposizione dell'autorità giudiziaria stanno nei frigo, quindi non è, che significa stanno nei corridoi? Ma non può stare la salme con un corridoio, magari sta davanti alla sala settoria per essere sottoposta ad autopsia, ma poi finisce là, per quel tempo strettamente necessario per risolvere questi problemi di natura, ma a me sta cosa mi fa rabbia, mi fa proprio rabbia, perché si vuole dare, va bene, un'immagine di una situazione che non trova riscontro nella realtà. Noi dobbiamo dire che ci sono situazioni che noi dobbiamo correggere, noi le dobbiamo correggere, perché abbiamo l'obbligo giuridico di assicurare la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e dare dignità ai defunti. Se ci sono situazioni che devono essere corrette, beh, siamo stati noi a denunciarle, noi l'abbiamo detto. Come ho sempre detto, va bene, che l'attività mortuaria del policlinico, va bene, che riguarda i decessi all'interno di questa struttura, deve essere gestita dal policlinico all'interno del policlinico, tant'è che noi abbiamo attivato le nostre camere mortuarie che sono già in funzione tranquillamente, non ci sono morti del policlinico all'obbligo, ma ecco, il problema delle sale settorie del policlinico li risolveremo nei prossimi giorni, immediatamente, perché sin dal 2013 già abbiamo sollevato la questione della camera mortuaria, l'abbiamo sollevato. Il policlinico deve avere questo tipo di servizio all'interno della sua struttura, perché è una delle condizioni di tutte le strutture sanitarie per avere l'accreditamento. Non si può ipotizzare che il policlinico possa avere dei morti fuori dal suo perimetro, nella mia più assoluta. Quindi il mio impegno è stato quello di trasferire la camera mortuaria dall'obbligo all'interno del policlinico. Per quanto riguarda il problema delle sale settorie abbiamo pensato che nell'emore della ristrutturazione della nostra sala settoria le nostre salme, che devono essere sottoposte ad accertamento autoptico, sono andate prima a San Giovanni e dopo a Tor Vergata. Quindi noi non abbiamo assolutamente nessun rapporto in questo momento con l'Istituto di Medicina legale del Policlinico. Anche se non si può assolutamente disconoscere che c'è stato questo rapporto che io ho cancellato, che è durato otto anni per trasferire l'esalme del Policlinico presso l'obbligo, ma che comunque in otto anni nessuno si è mai chiesto. Come mai questo servizio non è internalizzato e l'abbiamo esternalizzato? Quindi lì la situazione riguarda problemi di sicurezza per tutti gli operatori, oltre che, diciamo così, interventi di natura strutturale. Allora, la sicurezza dei lavoratori è la prima cosa che deve garantire un datore di lavoro. Bene, di fronte alle osservazioni del NAS, di fronte alle osservazioni e alle prescrizioni del rispetture dell'ispetturato del lavoro, che erano già nell'aria, noi avevamo già deciso di uscirne e ne siamo usciti. Però, ripeto, otto anni assieme, qualche accordo con l'università c'è stato, anche se illegittimo e improprio, anche perché, voi sapete benissimo che il problema della medicina legale è un problema dell'università, non è un problema dell'ospedale, un problema dell'attività mortuaria del Comune di Roma è un problema che riguarda il Comune di Roma e quindi l'AMA. In base a questo c'è una convenzione tra l'AMA e il Dipartimento di Medicina Legale dell'ospedale, insomma, proprio per questo tipo di attività. Il Policlidico non è mai entrato in questi rapporti. Direttore, un altro chiarimento va dovuto per quanto riguarda i medicinali, perché addirittura si è parlato, ovviamente in maniera errata, di medicinali scaduti e quant'altro. Lei più volte ha parlato del suo progetto invece di ristrutturazione della farmacia. Vogliamo dare tranquillità a chi ci ascolta circa i medicinali che vengono somministrati da questa struttura e poi entriamo nel dettaglio delle ristrutturazioni, anche perché sappiamo che c'è una novità importante. Sì, ma io non le posso consentire un'affermazione del genere. Medicinali scaduti da tutte le parti. Ma questo dipende dall'incuria di chi gestisce il farmaco. Il farmaco che è consegnato ai reparti e se scadano non è che noi tutti i giorni possiamo andare. Io non ho sentore di queste cose, anche se so benissimo che può anche succedere, può accadere. Il problema della farmacia è un problema serio che noi adesso stiamo risolvendo perché è un problema serio per due aspetti. Uno perché costa tantissimo. La farmacia rappresenta un terzo dei costi generali dell'intero poliglinico. Quanti farmaci, quante protesi e quanti presidi possono essere acquistati da questa grande struttura. Però è successo un altro fatto molto strano. In due anni abbiamo risparmiato 10 milioni di euro l'anno. E allora queste farmaci dove sono andate? Queste protesi dove andavano? Come mai? La produzione è rimasta invariata, forse leggermente diminuita, ma da qualche parte. Infatti ce lo siamo chiesti tutti. Infatti una parte venivano rubate, come sapete, ci sono stati interventi da parte dell'autorità giudiziaria, arresti, eccetera. Altre stiamo cercando di valutare, se si è il caso, di verificare un uso improprio di farmaci. Queste sono tutte situazioni infieri, però farmaci scadute non se ne dà a nessuno. Anzi, noi siamo la struttura che chiediamo farmaci ad altissimo costo. Infatti noi come struttura facciamo i trapianti d'organo e curiamo le malattie rare dove i farmaci costano e costano tantissimo. Per quanto riguarda la ristrutturazione, domani avrà un incontro importante col Ministro, direttore? No, veramente ce l'ho oggi, poverice alle 16, quindi dovremmo cercare di sbloccare l'altra parte del finanziamento che è la parte statale, ma il Ministro già attraverso note che mi ha fatto pervenire, insomma è totalmente impegnata nel risolvere definitivamente questo problema. C'è soltanto un passaggio ulteriore da fare che è quello di sottoporre il progetto che noi abbiamo presentato in Regione, da sottoporre al nucleo di valutazione nazionale, dopodiché i fondi sono a disposizione. E quindi finalmente potremo avviare queste ristrutturazioni tenendo presente una cosa importante, che durante la ristrutturazione l'ospedale deve funzionare, non è che possiamo chiudere il ristrutturale, dobbiamo fare in modo che ci sia un'organizzazione tale, che possa consentire e conciliare entrambe le esigenze, cioè le esigenze di dare una risposta alla richiesta di salute da parte dei cittadini, è quella, va bene, di procedere alla ristrutturazione per dare sempre ai cittadini un comfort accettabile. Si comincerà dalle prescrizioni che ci sono sulla sicurezza, direttore? Quella è la prima cosa, anche perché le prescrizioni ti impongono, diciamo così, termini perentori 30 ore entro i quali deve ottemperare. E quindi la priorità è la messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri lavori, come si procederà e soprattutto si ha un'idea di quando termineranno e quindi quando il Policlinico avrà un nuovo volto definitivamente? Io posso dire quando possono cominciare, quando termineranno non lo so, perché non ho la palla di vetro. Speriamo presto, speriamo presto, speriamo presto. Benissimo, direttore, la ringraziamo, augurandoci di rivederla presto, magari appena inizieranno i lavori faremo insieme nella struttura. Va bene, d'accordo, arrivederci. Grazie. Grazie.